Anche chi mirava a rallentare l'integrazione europea non ha contestato la legittimità delle istituzioni dell'Unione, pur criticandole anche duramente. I parlamentari eletti sono risultati in maggioranza a favore dell'Europa. Per questa ragione sono ottimista sul futuro dell'Europa. Penso che col tempo, essere parte dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. L'euro è più popolare che mai. Il sostegno all'Unione Europea tocca i valori più alti registrati dall'inizio della crisi. Nei dibattiti sul futuro dell'Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso e assai di più sulla via migliore per avanzare.